e così arriva anche il cambio di destinazione con opere ammesso senza troppe richieste nel dl casa nel dl 69 in corso di conversione in legge ci sono un paio di modifiche alcune delle quali ti avevo già accennato i contenuti nel video precedente di qualche giorno fa un paio di giorni fa se non sbaglio fine della settimana scorsa oggi che sto registrando è martedì 16 luglio 2024 siamo verso la fine dell'iter di conversione in legge sono in corso di approvazione gli ultimi emendamenti poi si parlerà si passerà alla discussione alla camera per l'approvazione della conversione in legge del decreto 69 il decreto salva casa il decreto di salvini quello che alcuni chiamano condono quello che alcuni giustamente ora stanno indicando come condono in corso di conversione è il decreto che è andato a modificare alcuni articoli ed introdurne di nuovi nel testo unico dell'edilizia un testo unico che avrebbe dovuto subire una revisione completa invece viene centellinato l'intervento normativo a trozzi e bocconi e questo che comporta comporta sempre più difficoltà applicative normative che si sovrappongono ma questo lo sappiamo già mi voglio soffermare sui fatti innanzitutto i parametri quelli di per quanto riguarda le norme igienico sanitarie le famose altezze minime 270 le superfici minime delle dei locali le superfici minime delle stanze le superfici minime delle superfici minime delle superfici finestrate arriva pochissimo sembra l'ultimo emendamento che è stato presentato e relazionato da fratelli d'italia propone in alcuni casi la possibilità di asseverare da parte del tecnico altezze inferiore a 270 fino a 240 minimo quelle altezze che sono ammesse nei corridoi nei bagni ecco e la riduzione per i monolocali da 28 a 20 metri quadri o per i bilocali da 38 a 28 metri quadri sono requisiti quelli igienico sanitarie che molti professionisti molti albi e altre associazioni chiedono da tempo che vengano revisionati sono del 1975 e in alcuni casi sembrano troppo vecchi però alcuni contestano il fatto che un'abitazione con un'altezza di 240 diventi forse troppo bassa troppo piccola 240 visto anche l'altezza media delle persone che negli ultimi anni direi negli ultimi decenni se è notevolmente alzata in alcuni casi non è che dia proprio quest'ampio ci sono stato ci sono anche vissuto o sono nato in quelle case vecchie rurali che avevano un'altezza piccola bassa e che avevano cent'anni o giù di lì non è che si abbia tutto sto cioè non c'è lo spazio per pensare volendo citare un passaggio di un film che probabilmente nessuno di voi coglierà arriva questa non arriva la riforma organica arriva questo emendamento che attraverso l'asseverazione di un progettista si potranno asseverare in alcuni casi queste altezze inferiori quali sono le condizioni? le condizioni è che ci sia un intervento che porti al miglioramento quindi di recupero del patrimonio, di ristrutturazione che portino al miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie dell'immobile o ad un progetto di ristrutturazione che migliori le condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio detta così l'interpretazione può essere ampia vedremo quali saranno effettivamente poi i termini inseriti nella bozza come sempre io vi ricordo che i documenti, le fonti, anche in questo caso le bozze vengono le pubblico tutte nel canale, nella pagina Patreon dove gli abbonati possono accedere vi invito ad abbonarvi, grazie a tutti a chi ha rinnovato gli abbonamenti nell'ultimo periodo fondamentali per poter portare avanti questo mio impegno online, questo mio lavoro online che è di analisi, approfondimento, divulgazione, informazione sulle ultime notizie questa potrebbe essere assimilata ad un'informazione riguardante le ultime notizie sulle norme che girano intorno alla casa, la ristrutturazione della casa, la compravendita tutte queste questioni catastali, urbanistiche, bonus soprattutto negli ultimi anni questa è una delle novità insieme alle altre delle quali ti ho parlato che è stata introdotta nel decreto in corso di conversione con gli emendamenti approvati intanto arrivava una telefonata e probabilmente non taglierò questo pezzo e poi i cambi di destinazione d'uso cambi di destinazione d'uso che vengono semplificati nella versione iniziale dei maggio del decreto 69 era già chiaro che i cambi di destinazione d'uso senza opere potessero essere fatti senza tante pippe addirittura senza dover trovare gli standard senza dover trovare i parcheggi anche questo anche nel caso in cui avessero aumentato il carico urbanistico e vengono ulteriormente semplificati viene chiarito che le opere di edilizia libera le eventuali opere di edilizia libera comunque saranno considerate senza opere e quindi il cambio di destinazione d'uso ammesso nella prima versione ma inoltre saranno ammessi anche i cambi di destinazione senza opere con opere semplificati semplificati in modo più semplice senza dover sottostare poi andremo ad analizzare il testo a quelle regole che finora hanno caratterizzato i cambi di destinazione d'uso i cambi di destinazione d'uso sono ammessi però dipende dipende dal piano regolatore dipende dalla possibilità di trovare parcheggi standard, verde, strade dipende perché un conto come ho detto nei miei video precedenti se si passa da un locale commerciale ad un locale produttivo ecco ad un C3 un conto è se l'operazione è contraria cioè per il locale commerciale banalmente servono più parcheggi che non per un laboratorio dove i parcheggi servono solo a chi ci lavora o poco più mentre dall'altra parte servono i parcheggi per i clienti questo è proprio banale il carico urbanistico non si può fare un centro commerciale senza prevedere dei parcheggi ecco nemmeno una casa in teoria si può fare senza prevedere i posti auto ok? con questo ho concluso ti rinnovo l'invito a iscriverti al canale attivare tutte le notifiche mi sono perso il canale mio eccolo qua abbonarti a Patreon ti ricordo che tutti i contenuti anche quelli di YouTube liberi li ricondivido anche su Patreon quindi se sei abbonato iscritto a Patreon puoi accedere a tutti i contenuti ma ricordati che sono tutti qui su YouTube Patreon ha due vantaggi è una piattaforma parallela a YouTube è sempre bene comunque avere un luogo parallelo dove poter pubblicare nel caso in cui non dovesse funzionare per qualsiasi motivo il principale e l'altro vantaggio è che me lo sono dimenticato lo stavo per dire l'altro vantaggio è che ti arrivano le notifiche eccolo quello che volevo dire ti arrivano le notifiche via email di tutte le pubblicazioni che faccio se sei abbonato ti arrivano le notifiche dei contenuti per gli abbonati se sei iscritto gratuito ti arrivano le notifiche solo dei contenuti gratuiti accessibili da chi è iscritto gratuitamente grazie per le risposte alle domande come sempre ecco questo è un altro vantaggio di Patreon potrete scrivermi un messaggio diretto oppure scrivermi un email vi ringrazio grazie di essere arrivati fin qui lascia mi piace al prossimo video